Presidente, molto velocemente, noi cerchiamo di mettere un correttivo, utilizzando questo articolo, relativamente al fatto che non si vuole mettere un ordine di priorità negli interventi sul dopo di noi, negli articoli successivi. Quindi, di fatto, richiamiamo poi l'articolo successivo e soprattutto mettiamo in luce la piaga italiana, sociale, dell'istituzionalizzazione delle persone con grave disabilità e cerchiamo di mettere un tappo, cerchiamo di mettere un momento di stornare i soldi che normalmente vengono usati nelle residenze sanitarie assistite in modo che questo progetto su dopo di noi non vada mai, mai, mai e poi mai in un'istituzione che possa minimamente assomigliare ai lager delle residenze sanitarie assistite che diventano appunto di tipo degradato, perché non sono più sanitarie ma diventano assolutamente degradate. Grazie.